Buongiorno ragazzi, c'è posta! Ecco tante lettere per voi! Sei bravo nel dire le cose Sei un bravo scolato Sei genente Scrivi molto bene Sei il mio migliore amico Sei quello Sei bella Sei una cara amica Ti vesti sempre in modo elegante Sai ballare bene Sei sincero Sei curioso Sei il mio miglior amico Sei bella Sei molto simpatica Sei una super amica Sai ballare benissimo Sei bravissimo in matematica Sei generoso Sai ballare bene Sei simpatica Sei bella Sei la mia migliore amica Sei bravo in matematica Sei bravo a studiare Sei allegro Sei simpatico Sei bravo a ballare Ti senti benissimo Ti senti benissimo Sei un amico affidabile Sei studioso Sei allegro Sei bravo in matematica Sei bravo nello sport Mi diverti quando parli napoletano Sei molto intelligente Sei molto intelligente Sei molto intelligente Sei volentiloso Sei bravo in italiano Sei veloce Sei vivace Sei simpatica Sei sorridente Sei sorridente Sei allegro Sei divertente Sei la mia migliore amica Sei una bambina amica Sei bravo in storia Sei il mio migliore amico Sei alto Sara Sei la mia migliore amica Sara Sei bellissima Sei molto ordinata Sei sempre gentile Sei sempre gentile Sei simpatica Sei la mia migliore amica Sei sempre simpatica Sei molto socievole Balli bene Sei dolcissima Sì 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 Sì